C'è anche Fano tra i 16 comuni marchigiani che domani, venerdì 28 luglio, riceveranno la bandiera gialla. Si tratta del riconoscimento che la FIAB, Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta, ogni anno assegna alle amministrazioni che decidono di far verificare il proprio livello di vivibilità urbana ottenuta grazie a piste ciclabili, aree verdi, moderazione del traffico e cicloturismo. In tutta Italia i comuni ciclabili 2023 sono 179, tra cui 9 capoluoghi di regione e 26 di provincia, Fano, che ha aderito sin dalla prima edizione nel 2017, ottenendo sempre il vessillo, quest'anno ha ricevuto 4 bike smile su 5. Paola, in base a quali criteri viene attribuita la bandiera? Criteri fissati dalla FIAB, tra l'altro con l'avallo dell'Università della Sapienza di Roma, dell'Anci, eccetera, sono relativi a 4 aree. Una è la mobilità sostenibile, quindi le infrastrutture, le ciclabili, ma anche le zone 30, le aree a 30 km orari, quindi la diminuzione della velocità in città. L'altro è la governance, sono tutti quei servizi che il Comune mette a disposizione dei cittadini per scegliere forme di mobilità alternative all'auto privata. Poi c'è la comunicazione e promozione, che non è una cosa banale, e coinvolgere continuamente durante l'anno, e noi lo facciamo anche con le scuole, con i bambini, in questo tipo di sensibilità rispetto alle scelte di mobilità. Tra l'altro la tendenza europea è questa, di non fare più piste ciclabili, ma rendere tutta la città a 30 km all'ora per renderla percorribile e sicura per tutti gli utenti. L'ultima, e non ultima, è il cicloturismo, e su questo noi ci stiamo muovendo con la ciclovia adriatica, purtroppo con un po' di fatica, perché sono interventi molto sostanziosi e grossi, quindi i finanziamenti sono enormi, ma stiamo procedendo e la realizzeremo per tratti. Oltre a questa, sono diverse le piste ciclabili realizzate dal Comune dal 2016 ad oggi, quella che collega la trave a Fenile, le ciclabili di Via Roma, Via Soncino, Via Negusanti, Via 4 Novembre, Via della Giustizia e Via della Fornace. Sono seguiti gli interventi in Via Trave, con la zona 30, il primo tratto di ciclabile in Via Dante Lighieri e il percorso inaugurato di recente all'Arzilla. Inoltre, a breve verranno realizzate sia la ciclabile di Viale Kennedy, che andrà in appalto il prossimo mese, sia quella che collegherà la zona dell'aeroporto alla rotatoria situata all'uscita della superstrada, che andrà a congiungersi con la ciclovia del Metauro. Sarà lunga complessivamente un chilometro e 800 metri. Tutti questi percorsi, un domani, faranno parte di una grande rete, diventando dei veri e propri itinerari ciclabili. Assessore, che cosa rappresenta per voi questo riconoscimento? È un riconoscimento molto importante, che lo viviamo veramente con grande grinta, perché veramente anche questo ci fa da stimolo ogni anno a fare meglio e a raggiungere un traguardo che misura la qualità della mobilità e quindi anche la qualità della vita delle persone all'interno della nostra città. In effetti, come dire, ottenere la bandiera gialla oggi non è indice solo, cioè non rappresenta solo di quante ciclabili abbiamo all'interno della nostra città, ma è molto di più. Cioè va a valorizzare quelli che sono percorsi di casa a scuola, scuola a lavoro, tutte quelle attività e tutte quelle, diciamo, dinamiche che noi poi mettiamo a disposizione per far sì che ci sia un raggiungimento in sicurezza e con più facilità. È per quello che vuole promuovere tutta la bike friendly, perché, come dire alle persone, utilizzate sempre più una mobilità leggera, quindi favorite di muovervi con biciclette a piedi, perché innanzitutto fa bene alla salute, ma fa bene anche al luogo in cui viviamo. Alla cerimonia di domani, che avrà inizio alle 17.30, l'ex chiesa di San Francesco, sarà presente il presidente nazionale della FIAB, Alessandro Tursi, e i rappresentanti dell'associazione di categoria del nostro territorio. Enrico, qual è l'obiettivo dell'iniziativa? Serve per misurare la febbre, la febbre delle città e quindi anche di Fano. Cosa è la febbre? Soprattutto febbre da traffico eccessivo. Infatti uno dei parametri che vengono misurati con questa iniziativa è il numero dei mezzi a motore che utilizzano la città. Quindi uno degli obiettivi è rendere più scorrevole il traffico consigliando, suggerendo, di usare mezzi alternativi. Per noi qui a Fano è normale pensare alla bicicletta. E attenzione, fra poco avremo, non dico l'esplosione, ma una più larga diffusione delle biciclette cargo, quelle che consentono alle persone di trasportare in sicurezza e dico anche in allegria, i bambini per andare a scuola e anche per fare la spesa. Quindi senza i problemi di parcheggio, di intasamento, di pericolo che sono prodotti da un traffico eccessivo. Perché ricordiamo che le nostre bellissime città, in particolare i centri storici, da una sessantina d'anni sono diventate altro. Devono ritornare ad essere quelle che erano un tempo, cioè il luogo dell'incontro, del commercio, della cultura, cosa che purtroppo non è da molto tempo.